si ritrae Nikita Bartur partiti con Nash DM molto veloce scende in 50 metri alla corda mentre in seconda posizione c'è Noblesse Ross lo strappo in 14 e mezzo ha sbagliato Norton GB ha sbagliato anche c'è un po' di bagarre sulla prima curva con le rotture di Norton GB e di Nissa del Ronco il comando è Nash DM che non è che abbia strappato granché i primi 4 se ne vanno infatti in 39 misura sicuramente tranquilla Nash DM è sceso la corda in fretta nei confronti di Noblesse Ross di fuori Naldanov quindi Nikita Bartur in quinta posizione in ag di Girifalco si completano 600 metri molto tattici in 46 e 2 31 e 7 dopo il mini strappo con Nash DM che continua in evidenza di fianco c'è Naldanov seconda sotto Noblesse Ross coperta da Nikita Gbartur che agisce in anticipo su 9 di Girifalco ultimo all'interno Nikita Cab secondo parziale in 31 e 1 1 e 2 passo tutto sommato costante per la battistrada Nash DM quando finisce la seconda curva si va di fronte ai tribuni e di fuori c'è sempre Naldanov 6,50 al traguardo il chilometro di Nash DM se ne è andato in 1,17,4 31 dal palo su una metà di top posta si mette in terza corsia Nikita Bartur perché la schiena di Naldanov non è più conveniente Nikita Bartur è filata da Nack di Girifalco in testa è sempre Nash DM che richiesta con la frusta per allungare quando siamo sull'ultima curva al parziale in 30 e mezzo 1,32 e mezzo i tre quarti di miglio Nash DM in evidenza Nikita che migliora insieme a Nack di Girifalco ha finito invece Naldanov è richiesta e sembra aver speso parecchio Nash DM incisiva Nikita Bartur è ancora più incisiva sembra Nack di Girifalco quando si va verso l'ingresso della retta d'arrivo con Nikita e Nike che stanno passando sulla stanca Nash DM Nikita e Nike di Girifalco è passata a dislancio a 100 metri dal traguardo allunga prende netto margine Nike di Girifalco viene a vincere nel più facile dei modi da cavallo che ha in mano almeno una categoria nei confronti di Nikita Bartur al terzo ancora Nash DM 37 gli ultimi 4 2-3 un filo abbondante il totale 1-17 la media la vittoria netta per Nike di Girifalco alla seconda uscita in carriera Max Castaldo Insulchi Albert Bert Mollema è l'allenatore i colori di Leonardo Cascio 3-21 al totalizzatore 1-17 Nike di Girifalco 3-22 Grazie.